Una giornata in fattoria, a contatto con la natura e gli animali, la ricoperta dei misteri antichi e della vita di una volta all'interno di quelle piccole comunità contadine che erano le cascine. È trascorsa così la domenica per molti cremonesi che hanno aderito all'undice di un'edizione di fattorie didattiche a porta aperte, iniziativa nata nel 2001 sulla spinta di Regione Lombardia e che oggi, nell'anno di Expo, assume un valore particolare come strumento di conoscenza dell'agricoltura, del cibo e di chi lo produce. Molte le aziende agricole cremonesi che hanno aderito, prese letteralmente d'assalto da grandi e bambini, trasformando una gita in campagna in una vera esperienza da fare con tutti i sensi per portarsi a casa sensazioni, immagini, profumi e pensieri che educano al rispetto dell'ambiente, della natura e della biodiversità.